L'amarezza, voglio dire, ecco, otto anni passati, ecco, il fatto che qualcuno ha dato mia figlia e che, ecco, non ci sia punizione, ecco, naturalmente, ecco, è una cosa quasi ridicola se non fosse tragica, ecco. Bruno Rossi, papà di Martina, commenta così quanto scaturito dall'udienza presso la Corte d'Appello di Firenze nei confronti dei due aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, giudicati in primo grado ad Arezzo colpevoli della tentata violenza sessuale di gruppo su Martina e la morte come conseguenza di un altro reato. La giovane ventenne genovese morì all'alba del 3 agosto 2011 volando giù dal sesto piano all'hotel Sant'Anna a Palma di Mallorca, secondo l'accusa, nel tentativo di sfuggire allo stupro da parte dei due aretini. Il tentativo l'ha detto il giudice l'altra volta nella sentenza, quella che c'è. C'è stato un tentativo di violenza sessuale, Martina è volato giù dalla finestra senza mutande. Uno dei due reati è prescritto, la morte in conseguenza di un altro reato, addirittura da febbraio, la pena passa da sei a tre anni. A chiedere di fissare celermente l'udienza di secondo grado erano state le parti civili segnalando la possibilità di prescrizione del reato che sarebbe avvenuta il 9 dicembre, se considerato una fattispecie autonoma. Interpretazione non condivisa dalla Corte d'Appello che ha quindi dichiarato estinto il reato. Il processo è stato rinviato al 25 settembre 2020 con seconda udienza al 5 ottobre. Nell'ipotesi che la violenza di gruppo venga derubricata a violenza individuale, ossia che Albertone abbia fatto tutto da solo e che Vanneschi sia stato un mero spettatore, il reato si prescriverebbe il 9 dicembre, molto prima che il processo entri nel vivo. In aula a Firenze si è presentato per la prima volta Luca Vanneschi. Oltre la pena anche l'amarezza per i colpevoli e per tutto l'apparato, diciamo così, perché ho vado a perdere così tanto tempo. Invece voglio dire, a volte si ride, perché oggi io in aula ho visto per esempio anche i sorrisi, la soddisfazione, proprio dieca, contentezza, dopo tanto ce l'abbiamo fatta. Insomma dai.